europei e le lobby per la questione siriana non conti il fattore umanitario. Il nodo è da sciogliere esclusivamente il destino di Assad. Mosca e Teheran chiedono che resti al potere e l'Occidente continua a fare pressioni per le sue dimissioni. Tuttavia la storia ci insegna che gli interventi esterni finora non hanno mai sortito gli effetti sperati, al contrario hanno sempre contribuito a incrementare gli scontri. Renzi e i suoi predecessori e gli altri capi di Stato europei sono la causa della morte di Aylan e delle tante altre migliaia di immigrati. Sono colpevoli perché non hanno mai voluto attuare un piano europeo sull'immigrazione e nemmeno quando qualcuno come il Movimento 5 Stelle lo scorso dicembre viene presentava uno perfetto al centro oggi di tutte le proposte. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1683 dei deputati Palazzotto e Scotto. Concernente iniziativa in sede europea volta a sospendere il regolamento Dublino 3 ai fini dell'istituzione di un diritto d'asile europeo, il deputato Palazzotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole. Grazie, signora Presidente. Grazie, signor Ministro. Noi ci troviamo davanti a un fenomeno migratorio epocale, la cui portata cambierà per sempre probabilmente il volto dell'Europa. legato prevalentemente a conflitti, quali quello siriano, quello libico, su cui grandi sono le responsabilità dei governi europei e occidentali in senso lato. I fatti di questi giorni, le cronache dall'Ungheria, da quel confine militarizzato contro profughi inermi, così come le cronache di Ventimiglia, di Calais, di migranti e di persone bloccate alle frontiere europee, ci parlano e ci raccontano di un'Europa che non è attrezzata politicamente e normativamente a far fronte a un fenomeno di questa portata. Noi continuiamo ad affrontare il fenomeno migratorio con norme e regolamenti europei che parlano di un fenomeno che non esiste più, che è cambiato nel tempo. Il regolamento di Dublino, che prevede che lo Stato affronti da solo, che ogni Stato affronti da solo i flussi migratori che attraversano il proprio territorio, è la principale causa di questa crisi. E quindi ci chiediamo quando e se, a partire dal prossimo Consiglio europeo, il nostro Governo proporrà formalmente la sospensione, il superamento del regolamento di Dublino e l'istituzione di un diritto d'asilo europeo. Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Gentiloni ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Ma io condivido con l'Onorevole Palazzotto la necessità di superare, di andare oltre le regole attuali del diritto d'asilo in Europa. Le ragioni sono molto semplici. Primo che sono regole di 25 anni fa, un quarto di secolo. E il fenomeno che abbiamo davanti, il fenomeno delle migrazioni, certamente non è paragonabile alla situazione di 25 anni fa. E in secondo luogo perché le cronache, le storie di tutti i giorni ci dicono che il pilastro su cui si fonda il regolamento di Dublino, e cioè che spetta sostanzialmente al Paese di primo ingresso gestire la situazione, non è più sostenibile. Com'è possibile immaginare che un Paese come la Grecia possa farsi carico dei 400.000 migranti che avrà...